Bentornati su MyFootballJersey. Rivediamo una maglia che abbiamo visto già in passato, trovate qui in alto la recensione. Questa ovviamente è la prima maglia del Manchester City in edizione player a manica lunga. Grazie a tutti. La maglia del City, campione d'Europa, campione d'Inghilterra, è una maglia che sicuramente bisogna avere. Questa di Puma è veramente molto bella, molto ben fatta. Fate attenzione però alla taglia perché questa è un L e devo dire che probabilmente serve una taglia più grande. Il costo come al solito lo vedete qui sopra? Beh, su questo non possiamo dire nulla, veramente è un grande. Se volete maggiori dettagli trovate i riferimenti tutti qui sotto, in descrizione. Andate a vedere sul sito perché insieme a queste troverete altre tantissime maglie che vi attendono. Ora vi lascio alla parte finale. Prima però iscrivetevi al canale. È un piccolo gesto ma ci aiuta a mostrarvi maglie belle come questa tutti i giorni. Per oggi è tutto. Alla prossima! Alla prossima!